Siamo di nuovo a casa del nostro amico Alessandro per una nuova ricetta da fare con voi. Che cosa faremo oggi? Beh, visto che siamo vicini a Pasqua, facciamo qualcosa che è nella storia di Bologna, che è la pinza, la pinza bolognese, e qualcosa che magari dopo può raccontare la Pasqua. Quindi facciamo la pinza dentro a uno stampo della colomba pasquale. La chiamiamo così, la pinza pasquale. Pinza pasquale, ottima idea. Illustraci un po' gli ingredienti. Allora, per fare una pinza iniziamo con farina, 250 g di farina, farina per dolci, zucchero semolato, 100 g, 50 g di burro, un uovo, media grandezza, poi latte QB, quindi il latte ne useremo solamente quanto serve per rendere la pasta morbida. Una mezza bustina di lievito, lievito per dolci. Mezza. Mostarda, oppure si possono usare altri tipi di marmellate, ma la pinza, a piacimento, però la pinza è buona, magari un po' di più, la pinza, è proprio fatta con la pasta. E in più, per arricchirla, un po' di uvetta, uvetta sultanina, che fa Pasqua. Però, mi chiedo, questo è uno strumento molto ricercato, difficile da trovare? No, no, si può trovare tranquillamente nei supermercati e in alcuni negozi di casalinghi. Si trovano molto, poi hanno un costo proprio molto semplice. Allora, cominciamo. Cominciamo. Allora, prima di iniziare a impastare, cediamo il forno e lo portiamo a 180 g di statico. Così, quando abbiamo finito la nostra pinza, la possiamo già infornare. E facciamo ancora prima, dopo, a gustarla bella calda. Allora, creiamo sempre la nostra fontana. All'interno mettiamo zucchero e burro e l'uovo. Ah, stavolta tutto insieme? Tutto insieme. Lavoriamo però solo la parte interna. Lavoriamo. Ci sente già il profumo del burro? Eh, con la mascherina, bello te, io non lo sento niente. No, io lo sentirei, io perché lo mascherino. Ecco, adesso ci aiutiamo pian pianino, prendiamo dentro un po' di farina. Quando siamo arrivati a tre quarti, che rimane ancora un po' di farina, mettiamo la nostra mezza bustina, mezza bustina per dolci. Quindi, iniziamo ad aggiungere un po' di latte, per arrivare alla nostra morbidezza, all'impasto come lo vogliamo noi. Usiamo il latte freddo perché se no va a sciogliere il burro e perdiamo dopo le proprietà del burro. Io sempre userei il latte intero per i dolci, perché se no il burro a che serve? Esatto. Quell'impasto deve essere compatto, però vedete morbido. Vedete, raccogliamo il nostro impasto, deve risultare così. È perfetto. Adesso, stendiamo un po' di farina e mettiamo il nostro impasto sopra. Vedete, con un po' di farina, aspettando un po', diventa compatto. Lo dividiamo in due, che saranno il corpo e la parte sopra. Quindi cerchiamo di fare due parti quasi uguali. Imburiamo un po' il nostro stampo con il burro, esatto. Ma è di carta questo? Sì, sì. Adesso prendiamo una metà, la adagiamo dentro e iniziamo con le mani a stenderla. Poi, passiamo alla fase 2, che è quella di mettere la nostra marmellata o mostarda. E abbiamo due possibilità. Essendo questa una mestarda pura, possiamo metterla anche con le mani. Stenderla, così riusciamo a stenderla in maniera omogenea. Per uno strato di mostarda. Esatto. Sottile, non grosso, perché dopo la fine... E andiamo, lasciando però sempre i bordi liberi. Quanto ce ne va di marmellata? Ah, bisogna riempire lo stampo un po'. A te piace molto piena o molto vuota? A me è tanta marmellata. Abbiamo fatto la nostra base. Ci mettiamo un po' di uvetta. A me è piaciuta. Sì, sempre sopra la mostarda, mi raccomando. Sopra la mostarda. Però ci potete mettere un po' di frutta secca, un po' di pinoli, un po' di mandorle. Mandorle, pinoli. Con il restante della pasta andiamo a coprire. Prendendo dei pezzi piccoli alla volta che poi dopo andremo a unire, li schiacciamo già un po' con le mani. E poi li andiamo a mettere sopra. Facciamo le due ali prima. E andiamo a farle combaciare, esatto, la pasta proprio con il bordo. Dopo, facciamo dopo. Adesso adagiamo solo la pasta sopra. Grazie di questa alla che mi hai preparato. Pasticcele due. La spedelliamo di uovo. Noi non avendo il pennello, non essendo dei professionisti, non abbiamo il pennello. Distribuiamo un po' di uovo. Un uovo sbattuto un po' sopra. Adesso andiamo a finirla con un po' di zucchero semolato. Aggiungiamo la nostra colomba sopra la peglia. E la mettiamo in forno che è già stato acceso ed è già arrivato a 180. L'importantissimo è cuocerla, che il forno si va a 180. È già arrivato a temperatura. Chiudiamo. Scotta. Mezz'ora e 40 minuti. Con la pasta rimasta facciamo una mini, una micro brazzadela. Brazzadela. Nuovetta anche? No. È bellissima così. Stendiamo ad aggiungere il forno che sta già cuocendo. Pronto? Vai, vai. Vediamo che il ciambellino è pronto. Per assaggiare, com'è che si chiama questa? La brazzadela. La brazzadela. La mini brazzadela. Ci vuole un fastidio di pantelleria. Qui è ancora caldina. Complimenti a tutti. Spettacolo. Col passito. La sua morte. Anche col passito. Il pasticcere è stato molto bravo. Il maestro pasticcere. Ma insegnavi? No, no. Non tu. Che bella. Pronta la nostra pinza colomba? La nostra pinza colomba. Mancavano ancora 5 minuti alla mezz'ora. 25 minuti. 25 minuti. La pinza di Pasqua, essendo più bassa rispetto alle colombe, si cuoce in fretta. Alessandro, un bilancio di questa nostra ricetta. Direi che dal punto di vista esteriore si presenta molto bene. Tu che aspetto cosa dici? Certo, no. Che monta molto bene, sono sincero. Si può impreziosire magari se uno vuole con una ciliegia rossa nella parte della testa per fare proprio la marena, una ciliegia rossa però sarebbe il top e poi direi che possiamo avere un nostro dolce da condividere con quelle persone che vogliamo bene in famiglia. Una volta raffreddata non va in frigo assolutamente ma semplicemente dentro un sacchetto di nylon e si mantiene anche per 10-15 giorni. Magari. Ecco, se la dobbiamo portare a una nostra amica, la nonna, potremmo usare i magnifici portatorte della cooperativa Gomito a Gomito. Sono bellissimi. Abbiamo utilizzato, sicuramente l'avete notato, i nostri grembiuli. I grembiuli, vedete che linea, soprattutto Alessandro. Il portatorte ha un laccetto laterale e una chiusura con il velcro, quindi la si mette qui dentro, così, si chiude il velcro, si stringono i laccetti, stringi là. Un laccetto di qua, un laccetto di là. Chiaramente la torta, questa colomba è piccolina, ma anche se più grande, si adatta a diverse grandi formati e si può portare, per esempio, alla mamma, alla moglie del pasticcere. Vieni, fatti a vedere. Guarda. Bellissima. Come si presenta. Sì, molto bene. Elegante. Portatorte di gomito a gomito soltanto 10 euro. Quindi, chi vuole prenotarli, ne avremo in abbondanza. Fate riferimento a me per l'acquisto. E poi si può portare anche, non solo i dolci, ma secondo me anche lasagne. Certo, giusto. Se vogliamo fare una bella lasagna. E un porta piatti cucinati con amore. Soprattutto cucinati con amore. Per portarli a casa, dalla mamma a casa tua, usa il porta... Il porta il tuo. Il tuo comitato mio. Molto bene, allora, che dire? Abbiamo finito il nostro video, spero che vi sia piaciuto. Mettete il like, vero, sul canale della Parola di San Lazzaro. Che è molto importante. Vi auguriamo buona Pasqua. Adesso chiediamo a Don Stefano di darci un augurio, una frase finale, perché questa è la colomba di Pasqua. Sì, mentre le colombe vanno via, questa qui porta la casa. E mangiatela. Auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua.